L'arte nel 900 secondo Vittorio Sgarbi il tutto condensato in 465 pagine dal futurismo al neorealismo e questo il titolo del volume edito dalla nave di Teseo e presentato alle segherie Mastro Totaro di Biceie un viaggio in un secolo fatto di letterature e tante contraddizioni passando per Modigliani, Boccioni, Morandi, Guttuso e la scuola romana senza perdere mai di vista attualità e passato senza dimenticare anche quell'Italia che fino a Tiepolo e Canova era stato il luogo privilegiato della manifestazione dello spirito del mondo Si chiama Tesoro d'Italia, è l'ultimo volume di una serie che è una storia della pittura italiana prevalentemente della pittura italiana quindi nonostante che non sia il secolo più importante è quello che ho dedicato maggiore impegno perché è quello più mistificato è quello in cui c'è più terrorismo culturale, più pregiudizi e quindi d'altra parte per capirlo bisogna vedere il film di sordi, Vacanzi Intelligenti, in cui uno va alla biennale lui con la moglie e vedono delle pecore e dicono ma questa è un'opera d'arte se uno comincia a pensare che una pecore è un'opera d'arte, che una merda è un'opera d'arte che tutto è un'opera d'arte, a un certo punto non capisce più cos'è un'opera d'arte Polemista, politico, critico d'arte, personaggio televisivo, sgarbi anche a Biceie si è mostrato nella sua multiforme identità l'arte è raccontata come la porzione di un mosaico che rivela il racconto della società italiana attuale e di quella del secolo scorso Il libro tenta di rivelare la natura carsica del Novecento che oltre ai futuristi, alla metafisica a Morandi, a Burri, ha anche molti altri artisti che sono stati dimenticati, sottovalutati e quindi è una storia un po' inedita rispetto a quella che prevediamo però certamente è un secolo che non può misurarsi con il Cinquecento, il Seicento italiano però probabilmente non è il secolo in cui l'Italia ha espresso la sua più alta invenzione comunque è un secolo molto contraddittorio e molto complesso Concepire la coscienza della propria identità nazionale e popolare attraverso l'arte è la lezione più grande che il professor Sgarbi ha lasciato a Biceglie trasmessa scavando nell'oblio e riportando alla luce alcuni autori di opere d'arte poco note al grande pubblico al futurismo si affiancano i successivi contesti sociopolitici della prima metà del secolo scorso per il racconto di una nazione e un mondo sempre al confine tra guerra e pace tema che resta di strettissima attualità ma è possibile che uno deva considerare che la figura più interessante di un secolo è uno che taglia una tela eppure su Fontana c'è una mitologia ma mentre Fontana ripinge c'è un grande pittore che si chiama Domenico Gnoli che non è meno importante di lui quindi insomma io ho fatto un lavoro di disarcimento di una storia frantumata perché negli secoli scorsi il nome della storia è un direttore recupero di un pittore sconosciuto e lo fai diventare noto noi no perché quello è fascista, quello è reazionario, quello non va bene grazie